Un pieno di medaglie per le sue allieve, ma qual è stata la soddisfazione più grande? Vederle salire sul podio dopo tanti anni di sacrifici, soprattutto le grandi, le mie senior che sono salite sul podio, è stata veramente un'emozione grandiosa. Quali premi vi siete aggiudicati? Ci siamo aggiudicati 4 ori, 3 argenti e 3 bronzi, Camilla è campionessa italiana al cerchio, Alice è campionessa italiana al cerchio e terza al nastro, Beatrice cerchia, terza al cerchio e l'onora campionessa italiana al cerchio e come prima gara per Alessia, prima la palla e seconda al corpo libero. Ma quale consiglio si sente di dare alle sue allieve? Allora, gli consiglio di continuare a lavorare come hanno lavorato finora perché questo campionato nazionale è stato veramente il coronamento di una stagione bellissima, già dai regionali abbiamo ottenuto risultati meravigliosi e quindi andiamo avanti così perché anche l'anno prossimo vorremmo replicare. Quali erano le prestazioni richieste? Ogni bambina portava due esercizi, quindi comunque un impegno notevole soprattutto per le più piccole. Quali progetti in cantiere per il futuro? Allora, noi adesso partiremo per i campionati federali e nazionali e avendo avuto buoni risultati durante questa stagione sportiva, speriamo appunto di replicare come già gli anni passati. Siamo riusciti appunto a portare le nostre bambine della sezione promozionale di base alla nazionale appunto che si è tenuto due settimane fa a Brescia e le bambine sono state appunto Eva Dalpiva e Clarissa Mura, riuscendo appunto ad aggiudicarsi Clarissa il secondo posto alla nazionale e siamo veramente molto felici del loro risultato. La cosa che ti è piaciuta di più? Mi è piaciuto che mi sono divertita e l'esperienza, perché non pensavo neanche di fare le gare. È stato faticoso? Allenarsi, sì, anche perché io arrivo da un po' più lontano, quindi un po' sì. Da dove arrivi? Da Valvicezzo. Ti sei divertita? Sì, molto. Da dove arrivi? Da Omegna. La cosa che ti è piaciuta di più? Gareggiare. È stato bello gareggiare dopo varie gare e è stato bello arrivare anche sul podio in queste gare. La più grande soddisfazione? Il regionale. È stato bello. Grazie.